Bentornato negli studi Temporadio al primo cittadino di Pozzolengo, di nuovo con noi Paolo Bellini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Paolo Bellini, ovviamente noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche messaggi whatsapp è il 348-318-8339 per chiamarci 0376-63-1709 e poi direttore streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuove Temporadio su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, voi siete già a posto, avete già fatto il bilancio, tutto quanto. Sì, noi il bilancio di previsione è ancora a dicembre, abbiamo già approvato il nostro bilancio di previsione del 2000, soprattutto dove? Il 2000 riferito in particolare, in maniera più precisa, al 2021. Adesso andremo in consiglio per approvare il consuntivo, quindi rendi conto di gestione, entro, come dice naturalmente la legge, entro il 30 aprile andremo appunto in consiglio comunale dove all'interno anche del consiglio comunale ci saranno nuovi regolamenti, andremo a ribadire quello che è, quindi a riconfermare tutto quello che sono le aliquote IMU piuttosto che le aliquote IRPEF con le detrazioni e quant'altro e con quello che dicevamo, un nuovo regolamento per quanto riguarda l'occupazione, diciamo così, con un occhio di riguardo per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico dove poi la giunta, in funzione anche del regolamento, avrà la facoltà di poter andare a, diciamo così, a comprimere piuttosto che a togliere o addirittura ad annullare completamente questa tassa riferita ai plateatici piuttosto che al suolo pubblico nel momento in cui viene occupato dallo spazio mercatale, tanto per essere chiari. Quindi cerchiamo naturalmente di agevolare quelle che sono le attività che sono state più colpite in questi mesi, in questi 14-15 mesi dove l'unica soluzione che abbiamo visto è quella di rinchiuderci con il coprifuoco e poi andiamo a festeggiare il 25 aprile. È fantastico, mi piacerebbe capire, Lampi, cosa ne pensa di questi ultimi 15 mesi, sarebbe interessante, dove è stata completamente distrutta quello che è la libertà, la libertà dell'individuo per cui sono morti tantissimi giovani, tantissimi giovani, sarebbe interessante capire cosa significa coprifuoco, che nemmeno quando eravamo in tempo di guerra non si poteva uscire di casa in alcune situazioni. Quindi noi oggi stiamo vivendo una situazione veramente paradossale, al di là che non ci sono soluzioni, perché come vedete non ci sono soluzioni, poi andremo a vedere anche nel Tocca a Noi alcune chicche, andremo a vedere. Però ancora una volta io mi chiedo dove sono tutti coloro che difendono la libertà, dove sono tutti coloro che difendono il diritto al lavoro, dove sono tutti coloro che difendono la dignità dell'uomo. Io me lo sto chiedendo da parecchi mesi. E quindi grande, ancora una volta da questi microfoni, grande solidarietà a tutti coloro che lavorano nel campo del turismo, tutti i ristoratori e tutti gli alberghi, a tutti coloro che lavorano nel campo dello spettacolo, nel campo dello sport e chi più ne ha più ne metta. Effettivamente sì, poi ci sono anche quelli dimenticati, tra l'altro. Voglio chiedere, a proposito di tutto ciò, manifestazioni allora si possono fare? Visto le indiscrezioni, perché quando vedremo il decreto, al di là che dobbiamo starcene rinchiusi in casa dalle 10 di sera alle 5 del mattino, che è veramente assurdo, è veramente assurdo, assurdo, veramente assurdo. Al di là di questo vedremo i protocolli, perché teoricamente dalle discrezioni sembra che dal primo di luglio possano ripartire le fiere. Quindi cercheremo di capire sotto che protocollo devono partire, in che maniera, come, quando e perché. Questo è l'unica cosa che possiamo fare, non c'è molto da fare. Certo, tra l'altro tornando ai plateatici anche, c'è un'altra cosa anche che magari molti non considerano, che è il fatto che bisogna mantenere il distanziamento, comunque si dovrà mantenere. Quindi tra l'altro, per esempio, i bar dovranno mettere i tavolini più lontani. Sì, ma anche questo discorso, al di là della mascherina all'aperto, che è da mesi che adesso è uscito uno studio nelle ultime settimane, dove dice che è perfettamente inutile all'aperto, perché il rischio di contagio è pressoché inesistente all'aperto, quando naturalmente non si è attaccati l'uno all'altro. Quindi capite anche qua che c'è una volontà di reprimere la dignità della persona. E questo è veramente inaccettabile. Allora... Benvengano le manifestazioni, benvengano le manifestazioni, fatte naturalmente con coerenza e naturalmente con il senso democratico della cosa. Allora, le leggo magari alcuni messaggi, intanto se è altro da aggiungere, Sindaco, comunque lo aggiungo tranquillamente. Assolutamente. Sindaco, pare che ora si riapra, quindi il Paglio si fa, per dindirindine se si fa, non posso leggere così come me la schiena. Vabbè, comunque si fa. Speriamo, speriamo di riuscire a farlo. Va bene, ok, quindi salutiamo il Paglio di San Lorenzo. Tanto per dire, nelle nostre corde, se naturalmente i protocolli ce lo permetteranno, c'è anche il degustibus. Degustibus e Paglio cercare di unire con un filo unico questo tipo di manifestazione e magari, perché no, all'interno del degustibus andare a riproporre anche la dispensa morenica. Però, ripeto, è tutto un'ipotesi, oggi. Allora, qua c'è una provocazione per lei, eh. Io gliela leggo subito. Bellini, per la prima volta è d'accordo con Salvini. È diventato leghista, appunto di domanda? Boh, guardi, guardate, d'accordo. Io non è che sono d'accordo con Salvini piuttosto che con l'uno o con l'altro. Io leggo i fatti come li vedo e pongo delle soluzioni che da questi microfoni sono partite non critiche solo, come qualcuno mi accusa, sono solo capace di chiacchierare e di criticare. Assolutamente no. Vadano a risentirsi le trasmissioni ancora anche dall'anno scorso, dove qua sono partite delle proposte. Giuste e sbagliate che siano, però sono partite delle proposte. Salvini, dopodiché, è da sempre che dico che la soluzione non è rinchiudere tutto e rimetterci nelle nostre case e non farci uscire. È da mesi, mesi, mesi e mesi. L'unica cosa è che Salvini si è astenuto, mi sembra di capire, perché nel votare il decreto legge si è astenuto, quindi anche qua c'è la coda di paglia. Cioè, astenersi nel gergo politico, nel gergo politico, l'astensione è equiparata a un parere favorevole. L'astensione, tanto per essere chiari, caro amico. Quindi, poteva tranquillamente votare contro. Alle 10, per lui non è corretto, doveva far sentire la sua voce votando contro e sennò uscendo dall'aula. Questo è il modo, per quanto mi riguarda, come la penso io, di far politica. Allora, poi le chiedono degli ambulanti anche, perché sì, ma infatti ne ha parlato prima del mercato. Assolutamente. Dal mercato, speriamo che riparta, sta ripartendo, è andato con tutti gli spazi e noi cercheremo di dare, di agevolare tutti questi signori, tutti questi lavoratori che in questi mesi hanno visto, hanno visto una preclusione della loro dignità al lavoro. Poi le scrivono, la sede Hauser sarebbe ottima per le vaccinazioni, facciamole da noi, sindaco. Come vi ho già detto da questi microfoni, non sono chiacchiere, perché ci sono testimonianze delle mail mandate in ATS, dove Pozzolengo ha dato la disponibilità sia dal centro risorse sociali, quindi sede Hauser, dove abbiamo 800 metri quadri di disposizione con ambulatori, dove tra le altre cose abbiamo già un ambulatorio dedicato solo ai prelievi. Inoltre, abbiamo dato disponibilità anche dalla palestra, che sono mille metri quadrati. Ancora a metà febbraio, primi febbraio, metà febbraio, qualcosa del genere. E' vero. Tra l'altro, anche lì, poi dopo vabbè, adesso ci sono fatti gli hub, poi pare che adesso vogliono coinvolgere le farmacie. Staremo a vedere, insomma, adesso staremo a vedere. Ho guardato i dati, diciamo che in questa settimana viaggiano abbastanza, diciamo così, in maniera, diciamo così, ottimistica, visto che sfiorano sempre i 300 mila, mentre ieri, dai dati che abbiamo aggiornati e, diciamo così, ufficiali, avrebbero, teoricamente, sono 340 mila le vaccinazioni fatte nella giornata di ieri. Speriamo che continuino su questo passo. Speriamo, assolutamente. Allora, Bellini, buongiorno, per venire in comune devo prenotare ma chi chiamo? Centralino o cosa? Chiamo il numero, ci sono più numeri, dipende da in che ufficio deve andare, se deve andare in polizia locale ci sono i numeri dedicati alla polizia locale, se deve venire negli uffici ci sono i numeri dedicati agli uffici. Basta fare i numeri dedicati agli uffici, c'è anche l'interno che in base all'ufficio in cui si deve recare, fissa l'appuntamento. Poi, ancora, a proposito di domande proprio pratiche, chi devo chiamare per segnalare un cartello storto? Chiedono. L'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico. Poi ancora, Bellini, lei è un sindaco e non può parlare di libertà e costituzione calpestata perché lei usa un linguaggio non consono a un'istituzione democratica. Qualcuno mi ha sentito incitare alla violenza, qualcuno mi ha sentito a abnegare quello che sono le leggi dello Stato, assolutamente no. Lo ripeto fino alla noia, i decreti sono atti amministrativi e gli atti amministrativi non possono variare, cambiare o annullare o modificare una legge. Nemmeno la Costituzione, tantomeno la Costituzione. Quindi, questo non lo dico io, lo dicono persone molto, molto più preparate di me. Ah sì. Poi, Bellini, scusi, a Carpenedolo, sicuramente hanno fatto una prepagata, potreste fare qualcosa di simile per gli aiuti? Così siete sicuri che la chiedono quelli che ne hanno bisogno davvero? Diciamo che gli aiuti al di là di quello che possono essere per legge arrivano direttamente con i decreti. Mentre quelli che sono di competenza del Comune, noi abbiamo già dato aiuti, parecchi aiuti e naturalmente abbiamo fatto uno screening e secondo noi sono andati a chi dovevano andare. Anche perché non siamo in 300.000 a Pozzolengo, siamo in 3.600, quindi più o meno la conoscenza e la capacità di poter valutare vi è ancora. Poi ora, basta spazzatura in giro, sacchi anche davanti a Ponticello, basta. Magari. Magari ci fosse... Io direi magari di fermarci un attimino con Paolo Bellini, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, sì, questo possiamo leggerlo nella rubrica Tocca a Noi. Ok, nella rubrica Tocca a Noi con Paolo Bellini, sempre, se poi arrivano altri messaggi per il Senaco, chiaramente li leggiamo. Faremo subito.